polmonite batterica muore bimba fanese di quattro anni ospedale muraglia polemiche sul dirottamento dei servizi sanitari per la prima volta pesaro ospiterà il marche pride rocca di gradara i visitatori tornano ai numeri pre covid la cucina dell'osteria il melograno in gara per il miglior chef italia mercoledì 4 maggio buona serata a tutti voi siete su rossini tv canale 80 questa è la nostra edizione del telegiornale delle 19 e 40 che poi potrete vedere anche in replica alle 20 e 40 questa sera apriamo con la cronaca e purtroppo con la notizia di una tragedia quella di una famiglia fanese che ha perso la propria figlia di appena quattro anni in seguito ad una polmonite a un contagio da covid che hanno aggravato un quadro clinico già debilitato da rare patologie vediamo il servizio tragedia per una famiglia fanese che ieri ha perso la propria figlia di appena quattro anni a causa di una gravissima insufficienza respiratoria la piccola è deceduta all'ospedale salesi di ancona dove era ricoverata nel reparto di anestesia e reanimazione pediatrica al salesi la bambina era arrivata dopo un trasferimento dal pronto soccorso di fano dove la notte fra il 30 aprile il primo maggio è raggiunta con febbre alta e gravi affanni respiratori al salesi la bambina è risultata positiva al tampone per il covid 19 ma far precipitare le condizioni della piccola è stata piuttosto la sovrapposizione del virus ad una polmonite batterica una combinazione che ha aggravato il quadro clinico di un corpicino affetto da trisomia 18 o sindrome di edwards una patologia cromosomica genetica simile alla sindrome di down sindrome che era accompagnata da una serie di altre patologie rare che non hanno dato alla piccola la forza necessaria per combattere l'infezione il bollettino del salesi ha spiegato come la progressiva risposta alla terapia anti-infettiva non è corrisposto un miglioramento del quadro respiratorio che si è mantenuto costantemente precario nonostante l'applicazione di varie strategie di ventilazione meccanica alla crisi respiratoria è corrisposto un progressivo deterioramento della funzione cardiovascolare fino al decesso della piccola paziente ed ora un dato benaugurante quello dello zero alla voce ricoveri covid in terapia intensiva che da un paio di giorni caratterizzano l'ospedale san salvatore l'ospedale marche nord dunque ha le terapie svuotate restano scarsamente popolate quelle del resto delle marche con appena cinque ricoveri in area critica sono attualmente 173 i ricoveri in area medica mentre l'incidenza da contagio rimane inferiore ai 700 casi ogni 100 mila abitanti continuiamo a parlare di sanità perché proprio in questi minuti si sta completando l'atteso consiglio comunale monotematico dedicato al futuro della sanità pesarese alla presenza del presidente francesco acquaroli un consiglio comunale del quale vi daremo tutte le informazioni nel nostro telegiornale di domani intanto però fanno già discutere le scelte politiche di allontanare definitivamente da pesaro alcuni servizi sanitari come ci sottolinea il consigliere regionale andrea biancani in questi giorni è emerso che per avviare il cantiere per il nuovo ospedale di pesaro alcuni reparti alcuni servizi verranno come dire abbandonati per sempre chiusi per sempre dalla città di pesaro ovviamente questa è una scelta che sta che ha fatto l'attuale con l'attuale regione marche che non condivido anche perché è un conto è un trasferimento provvisorio per il cantiere che ovviamente ci sta perché siamo tutti consapevoli che per realizzare il nuovo ospedale è necessario trasferire alcuni servizi un conto invece prevedere già da oggi che alcuni servizi vengano trasferiti in maniera definitiva dalla città di peso in particolar modo mi riferisco al reparto di psichiatria reparto che è importante strategico che rimanga nella nella città di peso ricordo è la capoluogo di provincia la seconda città delle marche e solo pensare di togliere questo reparto penso che sia molto grave ritengo che questo sia un grave un grave errore dall'altra parte addirittura lo spostamento delle comunità protette maschile femminile parliamo di persone in gran parte non autosufficienti cioè che le famiglie non riescono a gestire all'interno delle proprie abitazioni persone che hanno disturbi di tipo psichiatrico che attualmente sono anche loro ubicati nella struttura di muraglia secondo la regione dovrebbero andare a monbaroccio in una struttura che dovrebbe essere realizzata ex nuovo quindi non capisco perché occorre realizzare una nuova struttura a monbaroccio spostando persone che per la gran parte sono soggetti che sono pesaresi intervento nuovo che se era necessario si poteva realizzare benissimo a pesaro all'interno di tutti questi problemi emerge quindi quello che avevo già dichiarato la nuova volontà di creare una vera e propria casa di comunità nella città di pesaro c'è uno spazio dove mettere tutti i servizi che oggi sono presenti a pesaro in diversi punti cioè sono sparpagliati un po in tutta la città a volte anche in affitto io penso che era più opportuno era più come dire riuscire a trovare una soluzione che prevedeva di accorpare anche qui all'ex manicomio in spazio cerno a colpare i servizi sociosanitari se non si voleva fare all'ex manicomio si poteva benissimo fare in un'altra struttura o cercando di condividere di trovare insieme al comune un terreno dove poterla realizzare per la prima volta pesaro ospiterà il market pride è stata fissata il 18 giugno la data di una giornata dedicata alla sensibilizzazione alla promozione delle istanze civili della comunità lgbt delle marche l'evento è stato promosso dal comune di pesaro che decide di caldeggiare un'iniziativa capace di creare un clima sociale di rispetto ai confronto libero da pregiudizi e da stereotipi fondati su identità di genere e orientamento sessuale dall'11 maggio il comune promuoverà una serie di proposte di approfondimento culturale che culmineranno il 18 giugno con il corteo del market pride dalla palla di pomodoro a baia flaminia ed ora parliamo delle spiagge ci siamo occupati proprio la scorsa settimana del via alla stagione balneare di qualche malumore fra i bagnini per quel che riguarda i ridotti interventi sui ripascimenti delle spiagge l'assessore riccardo pozzi ha sottolineato oggi come il comune di pesaro è pronto ad integrare con 50 mila euro il contributo della regione marche che si è più che dimezzato rispetto al 2021 pozzi ha però invitato albergatori e concessionari di spiagge a trovare una linea condivisa in tempi ragionevoli altrimenti 50 mila euro saranno utilizzati per altri interventi di valorizzazione della zona mare ed ora parliamo di turismo in particolare della bellissima rocca di gradara che fra pasqua 25 aprile primo maggio è stato pensate il luogo culturale più visitato delle marche tornando ai numeri che erano pre covid 1628 visitatori tanti quelli che domenica hanno fatto tappa alla rocca di gradara rendendolo il museo statale più visitato nelle marche durante il primo di maggio numeri che si allargano però oltre la festa di lavoratori perché da pasqua pasquette 25 aprile il castello ha attirato una fluenza tale da riavvicinare la rocca a numeri di presenze non lontane da quelle pre covid una gratificazione per il comune che dal 2020 è diventato gestore diretto del bene de maniale e che da qualche mese ne ha affidato la direzione all'architetto stefano bracchetti e devo insomma fare un ringraziamento al personale di cadarinova che ha gestito la rocca e gestito i flussi importanti di turisti che in questi giorni in questi tre weekend perché primo maggio è stato il picco ma anche due precedenti con il palazzo 25 aprile hanno fatto dei numeri davvero importanti e quindi c'è stato un primo banco di prova di questa gestione diretta della rocca con numeri importanti perché abbiamo siglato l'accordo di valutazione col ministero nel luglio del 2020 quindi in pieno covid e quindi un periodo non facile in generale ma soprattutto per il settore museale e culturale però insomma abbiamo state bene siamo andati avanti anche con investimenti importanti legati alla fruibilità e all'accessibilità del monumento siamo riusciti ad ampliare il percorso di visita consentendo al pubblico di visitare anche la piazza d'armi un ringraziamento anche sentito al direttore della rocca l'architetto stefano bracchetti per la disponibilità e la collaborazione che ha distinto questi due mesi di collaborazione appunto con la DRM ed ora ci spostiamo a parma ed esattamente al salone dell'agroalimentare cibus dove si stanno mettendo in mostra 45 produttori marchigiani coordinati dalla regione marche qui da parma stiamo rilanciando il settore agroindustriale con la camera di commercio abbiamo presentato 45 aziende con i nostri migliori prodotti marchigiani siamo convinti che il rilancio dell'export partirà anche grazie a questo settore che per noi rappresenta la filiera agricola la filiera agroindustriale abbiamo messo diverse risorse anche per rilanciare le filiere del sistema industriale col psr investiremo 36 milioni di euro proprio per rafforzare il prodotto ma rafforzarlo in filiera e oggi qui a parma c'è il meglio del nostro sistema agroindustriale dopo due anni di pandemia si ritorna un po in libertà e quindi le opportunità anche visto oramai i visitatori che ci sono sono opportunità importanti e le nostre eccellenze le abbiamo portati proprio qui a parma le nostre eccellenze marchigiani e sarà l'occasione appunto per ulteriormente migliorare quelli che sono gli aspetti di valorizzazione dell'intero territorio regionale delle marche una regione come sappiamo di grande qualità in modo particolare per le produzioni dell'agroalimentare questa unione di mettere insieme il sistema agricolo con quello industriale è davvero un punto di forza che noi marchigiani riusciamo a fare meglio di altre regioni dobbiamo saperlo vendere meglio e da parma così come da altre parti abbiamo fatto un'operazione che è iniziata a dubai con un marchio che si chiama marca land of excellence questo marchio deve servire proprio per creare un'operazione di branding e per far conoscere il nostro sistema produttivo e le sue eccellenze e dalle eccellenze agroalimentari passiamo alle eccellenze per quanto riguarda la cinematografia perché nelle sale italiane arriva domani il film vecchie canaglie con lino banfi greg andrea roncato e il pesarese massimo fratelloni che questa mattina ha presentato proprio alle nostre telecamere il film siamo con massimo fratelloni attore pesarese che da domani giovedì 5 maggio arriva sui cinema un po di tutta italia con vecchie canaglie si tratta di una pellicola appunto come genere commedia che nello stesso momento è anche una diciamo anche uno sfondo drammatico perché tratta appunto il tema del matrattamento degli anziani ma va ad abbracciare anche valori come l'amicizia il senso dell'aggregazione che si poi verrà evidenziato nel film ed è un film ambientato nella bologna e nella periferia bolognese e praticamente sintetizzando un pochino la trama e la storia di un gruppo di anziani ospiti in una casa di riposo che si trovano ad avere un problema che è quello della decisione da parte della proprietaria una contessa perfida senza scrupoli di vendere la struttura e uno dei vecchietti diventerà il leader di tutti l'interpretato da rino banfi e chiederà aiuto al figlio malavitoso che non vede da vent'anni e qui ci sarà anche una riconciliazione il figlio malavitoso riuscirà praticamente a far succedere tante situazioni nell'ambito della struttura fino al punto di risolvere poi il problema creatosi dalla decisione della proprietaria abbiamo citato lino banfi ma non solo allora lino banfi greg andrea roncato pippo santo nastaso un attore storico commedie con adriano cerentano e chiara sani che oltre ad essere il regista è anche una delle uno dei protagonisti e massimo fratelloni nel ruolo diciamo spoileriamo un pochino il mio ruolo delle di un agente di polizia che conduce delle indagini appunto con il commissario in merito a tutto ciò che succederà nell'ambito della della struttura ricordiamo anche per i telespettatori pesaresi ma anche marchigiani dove si potrà vedere il film e anche gli eventi collaterali di presentazione a questo film sì allora il film potrà essere visto in tutte le multisale giometti cinema delle marche e anche del miglior magna ma in particolare ci sarà un evento qui a pesero lunedì 9 maggio alla multisala giometti vicino al cono di perossini e con la presenza della regista e degli attori quindi siete tutti invitati veramente di cuore giorni importanti per il cinema regionale perché domani esce in tutta italia anche criminali si diventa film interamente made in marche diretto da luca trovellesi cesena e alessandro tarabelli con il fanese henry secchiaroli in qualità di aiuto regista action comedy che domani sera avrà una prima al multiplex giometti di ancona alla presenza di gran parte del cast del film e farà altrettanto la sera seguente al multiplex di fano fra gli attori del cast ivano marescotti ugo dighero e la giovanissima martina fusaro il cinema astra di pesaro ospita invece il 6 maggio alle ore 21 la proiezione del video corpi in vendita a cura di lucia ferrati prodotto da percorso donna nell'ambito della quarta edizione del festival percorsi che comincia domani con un'ampia carellata di approfondimenti a contrasto della violenza di genere quello della ferrati è un percorso di parole e immagini che intende analizzare e capire uno dei tanti volti della violenza contro le donne la mercificazione del corpo in cambio di denaro ed ora chiudiamo il nostro telegiornale con un approfondimento dedicato alle abilità culinarie di natasha sperandei dell'osteria il melograno che si trova nella frazione gradarese di granarola abilità che stanno per arrivare anche sugli schermi del talent show il migliore chef italia natasha sperandei titolare e cuoca dell'osteria il melograno sarai la prossima partecipante al programma il miglior chef d'italia come è nata questa tua partecipazione a questo programma questa partecipazione è nata praticamente un pomeriggio uggioso d'inverno e niente per noi a guardando sui social su facebook e avevo visto che c'era questo concorso mi sono iscritta così per gioco e ho inviato tutto il materiale che loro mi avevano richiesto e così è iniziata questa avventura quando mi hanno contattato per dirmi che sì potevo partecipare ci ho messo un attimino a firmare il contratto perché era un po titubante non sapevo a cosa andavo incontro e poi tramite i miei ragazzi qui del mio staff tramite la mia famiglia gli amici quegli amici che io chiamo anche speciali mi hanno convinto ho partecipato ho rivisitato un primo che ho qui nel menù del melograno e è andata bene perché sono rientrata a far parte dei 30 chef d'italia quali sono state le fasi di questo tuo percorso ovvero tu hai presentato un piatto ma una ricetta inizialmente io ho presentato online una ricetta che è stata selezionata e successivamente sono andata a fare una prova a milano appunto con questo mio primo rivisitato e niente è andata bene e spero che vada avanti insomma e a luglio arriveranno le truppe la troupe di sky qui e filmeranno te mentre preparerai un altro piatto a luglio saranno qui all'interno di questa cucina e io andrò a rifare un nuovo piatto nella precisione andrò a fare un secondo rivisitato anche questo un secondo che trovate nel mio menù e con utilizzando degli ingredienti dove andrò a prendere la stagionalità del periodo fatto questo step qui al melograno verranno selezionati i tre vincitori non so su in quale location verrà fatta questa finale e io sì spero di essere tra i tre finalisti i piatti che hai portato nel programma e quelli che porterai ovviamente potranno essere trovati anche nel tuo menù ci sono i piatti che io praticamente per andare nel al programma ho dovuto modificare e renderli un po più gurme diciamo però in un futuro che sicuramente sarà a partire dal prossimo inverno avevo proprio pensato di fare delle serate anche dove propongo un menù completo con tutti i piatti che ho portato al concorso quali piatti possiamo trovare nel tuo menù quali particolarità e soprattutto cucini con prodotti tradizionali oppure ti sei inventata qualcosa allora la mia cucina è una cucina semplice da osteria cerco sempre di cucinare con dei prodotti locali del territorio e soprattutto la stagione seguo la stagionalità dei prodotti dove si trova questo locale allora praticamente granarola rimane a pochi chilometri dal borgo di gradara è un piccolo borgo con pochissimi abitanti dove qui a granarola ci sono solamente due attività di cui una è la mia che faccio l'istorazione e questo è un locale storico e precisamente dal 1973 che ha aperto come un piccolo bar successivamente è stato trasformato in osteria e io sono una terza gestione si è diventata la titolare di questa osteria nel 2019 quanto è stato anche complicato vivere in un'epoca non tanto semplice proprio per metterla un po così a ridere noi abbiamo festeggiato l'anno di attività proprio l'otto marzo quando è stato dato il primo lockdown è stato difficile molto difficile però con la tenazza con la passione siamo riusciti a superare il tutto e ci ha aiutato anche il fatto che effettivamente qui da noi si mangia bene i prezzi sono moderati la gente viene qui sta bene per cui non è stato difficile nelle successive riaperture ai lockdown riprendere alla grande e allora davvero complimenti all'osteria il melograno e queste immagini fanno venire davvero tanta fame anche perché siamo nell'ora della cena ma prima andiamo a raccontarvi quella che è la programmazione di Rossini tv di questa sera infatti alle 20 e 15 trasmetteremo il racconto della presentazione del libro il valore della salute dialoghi sulla cura e sul futuro prossimo della medicina in collaborazione con riviera banca e poi invece in prima serata vi mostriamo quella che è stata la bellissima fiera dei cavalli di cantiano una prima edizione primaverile dopo insomma tanto tempo cantiano ha riproposto live e in presenza questo evento che è un'eccellenza del territorio vi ricordiamo anche che domani arriva l'ultima puntata di insieme a canestro in questa ultima puntata abbiamo il piacere di avere il coach della carpegna prosciutto basket luca banchi coach molto molto amato da tutti i tifosi e allora carissimi tifosi seguite questa puntata in diretta alle 21 e 20 come sempre potete partecipare commentare attraverso il nostro numero di whatsapp ci sarà anche mauro procaccini che allenatore commentatore tv e vi ricordiamo che invece venerdì 6 maggio alle 21 e 20 ci sarà in diretta tv con noi il sindaco di pesaro matteo ricci per we pesaro tv potete partecipare mandandoci il messaggio al numero whatsapp 370 366 72 10 oppure chiamarci allo 0721 26337 e vi ricordiamo anche che a partire dalla prossima settimana e per tanti martedì fino ad arrivare a giugno riparte il nostro appuntamento con qua la zampa questo programma in collaborazione con comis group che parla di animali adozioni e anche consigli dei veterinari e adesso vediamo come sarà il tempo per i prossimi giorni con il nostro meteo io vi auguro buona serata